Una nuova governance per l'aeroporto di Marina di Campo per il prossimo triennio è stata illustrata ed annunciata questa mattina insieme al Presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni all'Elba per l'occasione. L'Assemblea dei Socii in programma il prossimo 2 aprile nominerà infatti il nuovo Consiglio di Amministrazione che sarà composto da Maurizio Serini che assumerà la carica di Presidente Massimiliano Dosi in qualità di amministratore delegato Francesca Marcucci come consigliere di amministrazione. Le linee guida individuate dai Socii per lo sviluppo dello scalo seguono tre direttrici principali, la gestione della continuità territoriale e il potenziamento della connettività, l'attuazione di un piano di investimenti e l'impegno alla realizzazione di un aeroporto a impatto zero. La presenza di Toscana Aeroporti in qualità di socio industriale della Toscana con una quota del 13,2% consentirà allo scalo isolano di beneficiare del know-how, della capacità commerciale e della rete di collegamenti degli aeroporti toscani di Pisa e Firenze, garantendo un potenziamento della connettività con la Regione Toscana e con il resto d'Europa. Si apre quindi una nuova pagina per l'Elba, come ha detto il Presidente della Regione, con una governance che vede alla Toscana Aeroporti al centro. Abbiamo raggiunto quell'intesa che mette insieme la Regione, Toscana Aeroporti, Camera di Commercio, il concerto con i sindaci dell'Isola d'Elba a partire da Angelo Zini che è stato un po' regista di tutta questa operazione che consente di creare una governance che vede Toscana Aeroporti molto più impegnata. Esprimerà l'amministratore delegato mentre noi abbiamo creato le condizioni perché con Serini, una persona che io conosco, di cui io stima, che sono convinto abbia le competenze tecniche e la conoscenza per poter sviluppare un'iniziativa, svolgeremo con il Consiglio di amministrazione una funzione che è più di indirizzo e di rapporti istituzionali. Quindi superiamo una fase in cui vi era un amministratore unico, che ringrazio, Lucardo, che ha lavorato molto bene, per entrare invece in una fase in cui gli enti, le istituzioni ci sono, danno le loro risorse, ma per quello che riguarda la gestione e il collegamento con le compagnie che possano svolgere un servizio, ci sarà un partner così affidabile e sicuro come Toscana Aeroporti. Il trasporto aereo è il futuro, ne è convinto Gianni, anche vedendo i numeri degli scali di Pisa e Firenze, da qui l'importanza di questa nuova opportunità per lo scalo urbano. Oggi ci si sposta sempre più con l'aereo, pensate a Firenze che nonostante un aeroportino a 1.650 metri riesce a far venire e andare 3 milioni di persone ogni anno, a Pisa 5 milioni, è evidente che per l'Elba, così come è stato per altre isole che hanno dovuto la loro fama e il loro successo proprio ad adeguati collegamenti aeroportuali, per l'Elba si apre una grande opportunità. Penso anche che promuovere l'aeroporto, promuovere i voli deve essere fatto insieme al promuovere l'Elba e conseguentemente anche a settembre noi vivremo una stagione di programmazione, di attività promozionali che si rivolgerà all'aeroporto ma si rivolgerà alla perla della Toscana e dell'arcipelago, appunto l'isola d'Elba.